Buongiorno ragazze e buongiorno ragazzi e bentornati alla nostra rubrica di consigli di lettura. Il romanzo di cui vi parlo oggi potrebbe essere collocato in una bibliografia dedicata ai segreti della natura, ma è anche un libro molto particolare che sfugge un po' ai generi e ora vi spiego perché. Intanto il romanzo di cui parliamo oggi si intitola L'albero delle bugie. È un romanzo ambientato nell'Inghilterra vittoriana, ha dunque un'ambientazione realistica e storica, ma è anche un romanzo fantastico, pieno di mistero e di tensione. La protagonista di questa storia è una giovane donna privilegiata dell'Inghilterra vittoriana che dovrebbe essere educata, ha tutte le arti che si presume siano adatte alle signorine di buona famiglia per quell'epoca. Lei invece si è appassionata di scienza, sulle orme del padre, un reverendo che è anche appunto un appassionato di scienza e fa parte della comunità scientifica locale. Quando il padre muore in circostanze misteriose tutto nella vita della protagonista cambia. La morte del padre è appunto piena di enigmi, di cose che non tornano. Inoltre il padre che appunto era un membro stimato della comunità scientifica era stato lasciato improvvisamente solo, trattato quasi come un pazzo. La ragazza scopre così che il padre aveva trovato una pianta misteriosa, una pianta magica, l'albero delle bugie appunto. Un albero capace di nutrirsi di bugie umane e di dare poi frutti magici che rivelano segreti. Io spero che questa storia vi abbia incuriosito. Prima di salutarvi vi ricordo che potete scaricare la mappa legata a questo titolo e attraverso la mappa scoprire moltissime altre storie. E adesso non mi resta che augurarvi buona lettura.